In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti Aprimi almeno tu! Sono morto anch'io Porta? Allora cosa vai la sua alla finestra? Aspetto la bara che venga a portarmi via Ci sono gli assassini, mi vogliono uccidere! Aiuto! Aprite! Aprite! Dove hai messo i soldi? Dove hai messo i soldi? Parla! Vuoi parlare? Parla! Lo impicca! Così parla! Ma forse l'hai vincitore! Non lo sai che gli impeccati prima di morire aprono la bocca! Ma per questo l'ha l'ultimo respiro! Parla dove hai messo i soldi! Parla dove hai messo i soldi! Parla dove sono i soldi! Parla dove sono i soldi! L'hai ammazzato! No! È vivo! Si muove! Cosa mi è successo? Che male! Dove sono? Guarda, è di legno! Ma allora che abbiamo impeccato? Pura! Pinocchio, corri! Vieni dalla tua fata! Se ne va! Pura! 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 Uffino Grazie.